la locanda della tormenta presenta Solomon Cain, le lame della fratellanza. Buon ascolto. La morte è una fiamma che danza sui cadaveri. Solomon Cain 1. Due lame si incrociano e arriva uno sconosciuto. Le lame si incrociarono col terribile fragore dell'acciaio, producendo una pioggia di scintille azzurre. Dietro quelle lame degli occhi incandescenti si fissavano. Da una parte occhi neri e duri e dall'altra occhi azzurri vulcanici. Due bocche respiravano similando fra i denti, mentre i piedi segnavano il terreno, avanzando o retrocedendo. L'uomo dagli occhi neri fece una finta, poi un affondo, muovendosi veloce come un serpente. Il giovane dagli occhi azzurri parò con un mezzo giro del suo polso duro come l'acciaio. Il suo colpo di risposta fu simile al bagliore del lampo estivo. Fermatevi signori! Le spade furono separate, e un uomo robusto si frappose fra i due combattenti. Teneva in una mano uno spadino tempestato di gemme e nell'altro un cappello piumato. Basta così! La questione è risolta e l'onore è soddisfatto! Sir George è ferito! Con un gesto di impazienza, l'uomo dagli occhi scuri nascose dietro la schiena il braccio destro, dal quale scorreva un rivolo di sangue. Fatti da parte! Gridò infuriato bestemmiando. È solo una ferita! Un graffio! Questo non risolve nulla! Non è niente! Bisogna continuare fino alla morte! Ehi, fatevi da parte, Sir Rupert! Disse il vincitore. Era calmo, ma i suoi occhi azzurri erano due scintille d'acciaio. La questione fra noi può essere risolta solo con la morte! Mettete via le spade, giovani galletti! Rispose indespettito Sir Rupert. Come magistrato io ve lo ordino! Dottore, venite a dare un'occhiata alla ferita di Sir George! Jack Hollister, rinfonderate la spada! Come è vero che mi chiamo Rupert Darcy, non ci saranno omicidi in questa regione! Il giovane Hollister non proferì parola, ne obbedì all'ordine del collerico magistrato. Tuttavia lasciò che la punta della sua spada poggiasse sul terreno e rimase in piedi, silenzioso e soprapensiero, con la testa un pochina, a osservare la compagnia da sotto le sopracciglie scure e aggrottate. Sir George aveva esitato, ma poi uno dei suoi secondi gli aveva sussurrato in fretta qualcosa all'orecchio e allora aveva consentito di malavoglia, consegnando la spada di Sir Rupert e lasciandosi curare dal medico. La scena aveva uno sfondo malinconico. Una pianura, ricoperta appena ad un'erba stenta e ormai secca che finiva con una striscia di sabbia bianca, cosparsa di detriti. Oltre la sabbia, il mare grigio e inquieto. Unico segno di vita, una vela in lontananza. Verso l'interno, oltre le paludi desolate, si scorgevano in distanza le casette disadorne di un piccolo villaggio. La macchia di colore di passione della scena che si svolgeva sulla spiaggia contrastava stranamente con quel paesaggio così desolato e spoglio. Un pallido sole autunnale splendeva sulle lame lucide, sulle else tempestate di gemme, sui bottoni d'argento cuciti sui cappotti di alcuni di quegli uomini e sui ricami dorati del cappello di Sir Rupert. I secondi di Sir George lo stavano aiutando a rimettersi il soprabito, mentre il secondo di Hollinster, un giovanotto ben piazzato e vestito di tessuto grezzo, lo stava invitando a rimettersi il suo. Ma Jack lo scostò ancora risentito. Improvvisamente si lanciò in avanti con la spada ancora in mano, la voce piena di ferocia e di vibrante passione. Guardatevi, Sir George Benway! Un graffio sul braccio non avrà certo l'insulto che sapete! La prossima volta che ci incontreremo non ci saranno magistrati che salvino quella vostra pellaccia putrida! Il nobiluomo si girò imprecando come un turco, mentre Sir Rupert rugiva. Messere, come osate! Hollinster gli indirizzò un ghigno derisorio, poi si voltò e si allontanò, rinfonderando la spada con rabbia e violenza. Sir George fece percorrergli dietro, col viso scuro e contorto, ma il suo amico gli sussurrò nuovamente qualcosa all'orecchio, indicando il mare. Gli occhi di Benway guardarono quella vela ferma e come sospesa nel cielo, ed assentì cupo. Hollinster camminava sulla spiaggia in silenzio, col capo scoperto, tenendo il cappello in una mano e il cappotto buttato su una spalla. Il vento gelato gli rinfrescò i riccioli bagnati di sudore, ma non la mente ancora molto agitata. Il suo secondo, Randall, lo seguiva in silenzio. Man mano che percorrevano la spiaggia, il paesaggio si fece più selvaggio ed incolto. Rocce gigantesche, grigie ricoperte di licheni abbondavano su tutta la spiaggia. Bene, può darsi che la prenda come ha preso tante altre fanciulle da queste parti, ma prima dovrò uccidere Jack Hollinster. Dick, non voglio sembrarti scorbutico, ma forse sarà meglio che tu mi lasci solo per un po'. Non sono di buona compagnia per nessuno e la solitudine e l'aria fresca del mare raffredderanno il mio sangue bollente. Non andrai per caso in cerca di Sir George, disse Randall esitante. Jack fece un gesto di impazienza. Andrò nella direzione opposta, te lo prometto. Sir George è andato a casa a leccarsi la ferita. Per un paio di settimane non si farà vedere in giro. Ma Jack, i suoi scagnozzi hanno una cattiva fama, tu sarai al sicuro. Jack ebbe un ghigno da lupo. Non aver paura, se si vendica in questo modo sarà col favore delle tenebre, non in pieno giorno. Randall si allontanò in direzione del villaggio, crollando il capo e pieno di dubbi, mentre Jack si avviava lungo la spiaggia e ad ogni passo si allontanava ancora di più dall'abitato, inoltrandosi in un regno brumoso di terre e di acque abbandonate. Il vento gli scompigliava le vesti sibilando e tagliava come un coltello, ma Jack non si coprì col sopravvito. L'aria fredda e grigia del giorno gli avvolgeva l'animo come un sudario. E allora maledì quella terra e il suo clima. La sua anima bramava le terre calde del sud che aveva conosciuto durante le sue peregrinazioni, ma fra le sue visioni si intromise un viso, un viso di ragazza ridente, coronato di riccioli dorati. Negli occhi aveva un calore che trascendeva la luna dorata dei tropici e che faceva persino di quella terra desolata un luogo caldo e accogliente. Poi gli apparve un altro viso, un cipiglio scuro e scanzonato, due occhi neri e duri e una bocca crudele con un taglio aggressivo che si nascondeva sotto un piccolo paio di baffi neri. Jack Holnister imprecò con tutta l'anima. Le sue imprecazioni furono interrotte da una voce profonda. Giovanotto, le vostre parole sono come l'ottone sonante e i sonagli tintinnanti, piene di suono e di furore, ma non significano nulla. Jack si girò con la mano sull'elsa della spada. C'era uno sconosciuto accovacciato sopra un masso. L'uomo si alzò quando Jack fece per voltarsi, poi si levò un gran mantello nero e se lo mise sul braccio. Holnister lo guardò sorpreso. Era un uomo che attirava l'attenzione, di certo. Era ben più alto di Holnister, che era già abbastanza più alto della media. Su quel corpo magro non c'era nemmeno un'once di grasso o di carne in più, eppure non aveva un aspetto fragile o esile. Al contrario, le spalle larghe, il petto ampio e le membra lunghe e robuste tradivano forza, velocità e capacità di sopportazione. Tradivano anche uno spadaccino, come la lunga arma di Sadorna che portava al fianco. Più che altro, l'uomo ricordava Jack i lupi magri e grigi che aveva visto nella steppa siberiana. Ma ciò che in quell'uomo più attirava l'attenzione era senz'altro il volto. Il viso era piuttosto allungato, rasato, di uno strano pallore scuro, che assieme alle guance, abbastanza scavate, a volte dava l'impressione quasi di un cadavere. Finché non si notavano gli occhi. Questi brillavano, vibravano di vita e di dinamismo, racchiusi nel profondo dell'anima e tenuti sotto controllo da una volontà di ferro. Guardando quegli occhi, Hollinster avvertì l'impatto freddo del loro strano potere, ma fu incapace di determinarne il colore. In essi c'era il grigio del ghiaccio antico, ma anche l'azzurro freddo delle profondità insondabili del mare del nord. Li incorniciavano sopracciglia spesse e nere, che davano al viso un'aria decisamente mefistofelica. Il tessuto di cui era vestito quell'uomo era severo e semplice e si addiceva alla sua figura. Aveva un cappello nero e floscio, senza piume. Dal collo alle caviglie era coperto di abiti aderenti di colore scuro, senza ornamenti né gioielli. Le dita potenti non portavano alcun anello. Nessuna gemma ornava l'elsa della spada e la lunga lama era protetta da un fodero di semplice cuoio. I suoi abiti non avevano bottoni d'argento né le scarpe erano chiuse da fibbie lucide. La tetra uniformità del suo abbigliamento era tuttavia spezzata in modo abbastanza originale e bizzarro da una larga fusciacca annodata in vita alla maniera zingaresca. Questa fusciacca era di seta, di fattura orientale. Aveva un colore verde splendente e vi erano infilate due pesanti pistole di cui si vedevano spuntare soltanto le impugnature. Lo sguardo di Hollinster si attardò su quella strana apparizione e intanto si chiedeva come fosse arrivato fin là quell'uomo, vestito così stranamente e armato fino ai denti. dall'aspetto poteva sembrare un puritano eppure come siete giunto fin qui e come mai non vi ho visto finché non mi avete rivolto la parola? Sono giunto qui come ogni uomo onesto mio giovane signore con le mie due gambe e quanto al resto gli uomini presi dalle proprie vicende al punto di pronunciare il nome di Dio in vano non vedono né gli amici con loro vergogna né i nemici con loro pericolo. Chi siete voi? Il mio nome Solomon Kane giovane signore un uomo senza terra che un tempo fu di Devon. Jack corrugò la fronte incerto. Da qualche parte in qualche modo quel puritano aveva certamente perso l'accento di Devon ma come pronunciava le parole poteva venire da ogni luogo dell'Inghilterra sia del sud che del nord. Avete viaggiato molto messere. Non stato mandato in molti paesi lontani giovane messere. Hollinster si illuminò e guardò il suo strano compagno con rinnovato interesse. Non siete stato capitano dell'esercito francese per un periodo? Non eravate per caso a... e fece il nome di un certo luogo. Kane si rannuvolò. Certamente comandavo una masnada di bravacci sia detto questo mio disonore sebbene la causa fosse la stessa. Durante il saccheggio di quella città che avete nominato furono commesse molte nefandezze in nome di una causa e il mio cuore si riempì d'orrore. Ma dall'ora è passata molta acqua sotto i ponti e ho affogato in mare certi ricordi insanguinati. Ma a proposito del mare ragazzo che cosa sapete di quella nave che se ne sta lì ferma dall'alba di ieri? Un dito smagrito indicò il mare e Jack scosse il capo. Ah è troppo lontana non riesco a distinguere nulla. Gli occhi tristi sondarono quelli di Hollinster il quale non ebbe dubbi che quello sguardo freddo potesse superare le distanze e leggere il nome che era scritto sulla fiancata di quella nave lontana. Per quegli occhi così strani non poteva esserci nulla di impossibile. Infatti è troppo lontana ma dal taglio del sartiame credo di riconoscerla. Credo proprio che mi piacerebbe incontrare il comandante di quella nave. Jack non disse nulla. Da quelle parti non c'erano porti ma col tempo favorevole le navi potevano avvicinarsi alla secca e gettare l'ancora. Quella nave poteva appartenere a dei contrabbandieri. Quella costa solitaria dove gli ufficiali della dogana mettevano piede raramente ospitava spesso traffici illegali. Avete mai sentito nominare un certo Jonas Ardraker che alcuni chiamano il falco pescatore? Hollinster sobbalzò. Quel nome temuto era noto su tutte le coste del mondo civile e anche su molte coste non civilizzate poiché il padrone di quel nome lo aveva fatto odiare e temere in molte acque sia calde che fredde. Quel pirata sanguinario? L'ultima volta che ne ho udito parlare si disse che navigava nei Caraibi. Cain assentì. Le menzogne precedono una nave veloce. Il falco pescatore è dove sta la sua nave e dove sta la sua nave lo sa solo Satana, il suo padrone. L'uomo si alzò stringendo il mantello attorno a sé. Il Signore ha guidato i miei passi in molti strani luoghi e per molte strade bizzarre. Alcune erano belle, molte pessime. A volte mi sembrava divagare senza né guida né meta, ma sempre quando cercavo bene trovavo una buona ragione per tutto ciò. E ora ascoltatemi bene voi giovanotto. Eccettuate le fiamme dell'inferno non c'è fiamma più calda del fuoco azzurro della vendetta che arde nel cuore dell'uomo giorno e notte senza posa finché non lo estingue col sangue. In passato è stato mio compito liberare diversi uomini dalle loro vite. Bene, il Signore è il mio bastone e la mia guida e credo che abbia consegnato il mio nemico nelle mie mani. Così dicendo, Kane si allontanò a lunghi passi felini, lasciando Hollinster a guardarlo sbigottito. 2. Un uomo nella notte Jack Hollinster si risvegliò da un sonno pieno di sogni. Si alzò a sedere sul letto, guardandosi attorno. Fuori la luna non era ancora sorta, ma alla sua finestra una testa e un paio di spalle larghe si stagliavano nere alla luce delle stelle. Gli giunse all'orecchio un suono di avvertimento, come il simbilo di un serpente. Jack estrasse lentamente la spada dal fodero che era appesa alla testata del letto, poi si alzò e si avvicinò alla finestra. Un viso barbuto con due occhi piccoli e scintillanti lo guardarono. L'uomo ansimava, come se avesse fatto una lunga corsa. Portati dietro la spada, figliolo, e seguimi. L'ha presa. Chi? Chi ha preso chi? Sir George! Le ha mandato uno scritto con il tuo nome sopra e l'ha fatta andare alle rocce. I suoi furfanti l'hanno presa e... Mary Gervin! Vero come vero il Dio padrone! Hollinster ebbe un capogiro. Aveva previsto un'azione contro di sé, ma non aveva sospettato che la natura vile di Sir George arrivasse al punto da far rapire una fanciulla in difesa. Sia maledetta la sua anima nera! Dov'è la fanciulla? L'hanno portata a casa sua, messere! E tu chi sei? Sono Sam, lo stagliere della taberna! Li ho visti mentre la catturavano! Hollinster uscì dalla finestra, ormai vestito e con la spada sguainata. Ti ringrazio, Sam! Se vivrò mi ricorderò del tuo gesto! Sam sorrise mostrando i suoi denti gialli. Vengo con voi, signore! Ho un paio di cosette in sospeso da sistemare con Sir George! Così dicendo agitò un coltellaccio affilato. Vieni dunque! Andiamo subito a casa di quel maiale! L'antica casa gentilizia di Sir George, in cui egli viveva solo, fatta eccezione per alcuni servi dal volto maligno e sette vecchie ancora più malefiche, distava due miglia dal villaggio ed era vicina al mare, ma dalla parte opposta a quella dove Jack aveva passeggiato il giorno precedente. Era una casa enorme, massiccia e bassa, piuttosto trascurata. Le porte di quercia erano macchiate dal tempo. Si raccontavano molte brutte storie su quell'abitazione e tra i paesani solo quelli più rissosi e delinquenti, che godevano della confidenza del padrone, vi si erano avventurati. Non aveva mura di cinta, solo siepi irregolari e qualche albero mal ridotto. La casa dava le spalle alle paludi, mentre la facciata era orientata verso la spiaggia, larga circa 200 metri, che si trovava fra la casa e la costa rocciosa. Le rocce davanti alla casa di fronte al mare erano insolitamente alte, solitarie e frastagliate. Si narrava che tra quelle rocce ci fossero delle strane grotte, ma nessuno lo sapeva per certo, perché Sir George considerava quella parte di spiaggia di sua esclusiva proprietà e aveva l'abitudine di prendere a colpi di moschetto chiunque mostrasse della curiosità verso quel luogo. Jack Hollister e il suo strano compagno si avvicinarono alla casa attraversando la palude maleodorante. Non si vedeva nessuna luce alle finestre. Una nebbiolina sottile aveva cancellato la maggior parte delle stelle e la grande casa si stagliava scura e minacciosa, circondata da fantasmi contorti che erano le siepi e gli alberi. Verso il mare tutto era ammantato da una coltregrigia, ma ad un certo punto a Jack parvi di udire il rumore attutito di una catena d'ormeggio. Si domandò se oltre quella linea di onde velenose ci potesse essere una nave alla fonda. Il mare grigiastro mugiva senza posa, come un mostro che si lamenta nel sonno senza svegliarsi. Il vento, signore! Avranno spento le luci, ma sicuramente lei è là dentro! Disse Sam sussurrando con ferocia. Si avvicinarono in silenzio alla grande casa buia. Jack ebbe il tempo di chiedersi come mai non vi fossero guardie. Sir George era forse così sicuro di sé da non aver neanche disposto delle sentinelle, o forse le sentinelle si erano addormentate in servizio. Provò ad aprire una finestra con cautela. Aveva le imposte pesanti, che tuttavia si aprirono con una facilità sorprendente. In quell'istante la mente di Jack fu attraversata da un lampo di sospetto. Tutto si stava rivelando troppo facile. Si voltò e fece appena in tempo a vedere la mano di Sam che calava su di lui impugnando un coltellaccio. Non c'era il tempo né di colpirlo e né di scansarsi. Eppure persino in quel momento notò in quegli occhietti scintillanti un lampo di trionfo. Poi il mondo gli cadde addosso e non rimase che il buio totale. 3. Stanotte la morte è in cammino. Jack Hollister ripresa lentamente conoscenza. Negli occhi aveva un bagliore rossastro che cercò di mandar via sbattendo le palpebre. Sentiva un dolore lancinante alla testa e quel bagliore gli feriva la vista. Chiuse gli occhi sperando che cessasse, ma la luce impietosa gli attraversava le palpebre e sembrava raggiungere il suo cervello dolorante. Un'amalgama di voci lontane e confuse gli aggrediva le orecchie. Cercò di toccarsi la testa con una mano, ma non fu capace di muoversi. Poi, all'improvviso, fu invaso dai ricordi e fu completamente e dolorosamente sveglio. Era legato mani e piedi e giaceva su un pavimento di terra maleodorante. Si trovava in una cantina spaziosa, piena di cataste di botticelle, barilotti e barili neri dall'aria appiccicosa. Il soffitto della cantina era abbastanza alto e aveva grosse travi di quercia. Da una delle travi pendeva una lanterna che emanava una luce che gli feriva gli occhi. Quella luce illuminava la cantina, ma ne riempiva gli angoli di ombre danzanti. Su uno dei lati dell'ambiente si apriva una larga scalinata di pietra. L'uscita era sul lato opposto e si trattava di un corridoio buio. Nella cantina c'erano parecchi uomini. Jack ravvisò le sembianze scure e beffarde di Benway, il viso arrossato dal vino di Sam, il traditore, e due o tre delinquenti che passavano le giornate fra la casa di Sir George e la taverna del paese. Gli altri dieci o dodici uomini gli erano sconosciuti. Erano tutti senza dubbio uomini di mare, irsuti e rissosi, con anelli d'oro al naso e alle orecchie e le brache unte. Erano vestiti in maniera bizzarra e grottesca. Alcuni avevano la testa cinta di fasce multicolori e ognuno di loro era armato fino ai denti. Sciavole corte con impugnature larghe d'ottone, pugnali tempestati di gemme e pistole lavorate in argento facevano bella mostra di sé. Quegli uomini stavano giocando a dadi, bevendo e bestemmiando, con gli occhi che scintillavano al buio sotto la luce della lanterna. Pirati! Quella non era certo gente onesta di mare, visto lo strano contrasto di eleganza e rozzezza. Brache unte e casacche da marinaio, ma chiuse in vita da fusciacche di seta. Non avevano calze, ma molti di loro portavano scarpe con le fibbie d'argento e le dita erano ornate di pesanti anelli. Molti portavano all'orecchio grossi anelli d'oro, dai quali spesso pendevano delle gemme di grandi dimensioni. Fra tutti non possedevano un solo coltello da marinaio onesto. Avevano dei pugnali italiani o spagnoli costosissimi. Gli ornamenti, le espressioni feroci, il linguaggio scostumato e blasfemo conferivano loro il marchio del loro mestiere sanguinario. Il pensiero di Jack corse alla nave che aveva visto prima del tramonto e al rumore di catena d'ancora che aveva udito nella nebbia. All'improvviso si ricordò di quello strano tipo, Kane, e delle parole misteriose che aveva pronunciato. Come aveva fatto a sapere che si trattava di una nave bucaniera? Che in esso aveva quell'uomo con questi selvaggi? Il suo aspetto da puritano era semplicemente una maschera che nascondeva sinistra attività? Un uomo che stava giocando a dadi con Sir George si girò improvvisamente verso il prigioniero. Era un tipo alto, dalle membra lunghe e dalle spalle larghe. A Jack balzò il cuore in gola. Poi si calmò. A prima vista gli era sembrato che quell'uomo fosse Kane, ma ora vedeva che il bucaniere, benché avesse una corporatura simile a quella del puritano, per ciò che riguardava il resto, era tutto il contrario. Era vestito poco, ma con molto sfarzo, e aveva una fascia di seta, fibbie d'argento e passamanerie dorate. Dalla larga cintura gli spuntavano le impugnature tempestate di gemme di un pugnale e di una pistola. Una lunga spada, splendente d'oro e di pietre preziose, era appesa a una cintura riccamente lavorata. Da entrambi gli orecchini d'oro fino pendeva un rubino rosso splendente, i cui bagliori scarlatti producevano uno strano contrasto accanto a quel viso bruno. Il pirata aveva il volto magro, rapace e crudele. Un cappello sghembo gli coronava la fronte stretta ed era calato sulle sopracciglia sottili e nere, ma non tanto da nascondere la fascia colorata che aveva avvolta sul capo. Sotto l'ombra del cappello danzavano un paio d'occhi impudenti, freddi e grigi, che alternavano momenti di luce ed ombra. La bocca, un taglio sottile dall'espressione crudele, era ornato di un paio di mustacchi cadenti, simili a quelli portati dai mandarini manciu. Un naso affilato e aquilino sovrastava il tutto. «Ehi, Giorgia! Il nostro ospite si è svegliato!» gridò l'uomo e la sua voce era tagliente e derisoria. «Per Zeus, Sam! Credevo che l'avessi fatto fuori, ma ha la pelle più dura di quanto credessi!» La ciurma di pirati smise di giocare e si mise a guardare e a dileggiare Jack. Il viso di Sir George si fece scuro e indicò il suo braccio sinistro, con una benda che traspariva da sotto la manica di seta arricciata. «Dicevi il vero, Hollister, quando affermavi che la prossima volta che ci saremmo incontrati non ci sarebbero stati magistrati tra noi. Solo che stavolta credo proprio che sarà la tua pellaccia a soffrirne!» «Jack!» La voce, agonizzante e improvvisa, lo ferì ben più profondamente dello scherno di Benway. Jack sentì che il suo sangue si gelava, si gerò di scatto e allungando il collo vide qualcosa che quasi gli arrestò il cuore. C'era una fanciulla legata a un anello fissato a un palo di quercia, una ragazza inginocchiata sul pavimento umido che si protendeva verso di lui, col viso pallido, gli occhi dilatati dal terrore e i riccioli dorati spettinati. «Mary! Oh mio Dio!» Un grido angosciato uscì dalle labbra di Jack. Al suo accento disperato si unì un coro di risate brutali. «Brindate alla salute di questa coppia d'innamorati!» ruggì il capitano dei pirati, sollevando una coppa spumeggiante. «Bevete agli amanti, ragazzi! Ma sembra che lui non ami la nostra compagnia! Vorresti forse rimanere solo con la ragazza, bell'imbusto?» «Maiale! Farabutto!» gridò Jack divincolandosi e facendo sforzi sovrumani per mettersi in ginocchio. «Vigliacchi! Farabutti! Demoni indegni! Dei degli inferi! se avessi le braccia libere!» «Liberatemi e mostrate un briciolo di coraggio almeno fra quanti siete!» «Liberatemi e lasciate che io stringa le vostre gole di maiali con queste mie mani! Se non stermino tutti questi sciacalli, allora si dica di me che sono un codardo e un mascalzone!» «Per Giuda!» disse uno dei bucanieri pieno di ammirazione. «Il ragazzo ha del fegato! Bisogna riconoscerlo! E che facilità di parola! Che io sia rinchiuso nella stiva! Capitano! Che possono accecarmi e togliermi il fegato, ma...» «Silenzio!» Lo zittì Sir George, poiché l'odio gli rosicchiava il cuore peggio di un ratto. «Oh Linster, stai sprecando il fiato! Stavolta non ti affronto a spada sguainata! Hai avuto la tua occasione e hai fallito! Adesso ti sfido con armi che meglio si addicono al tuo rango e al tuo censo! Nessuno sa dove sei andato o per quale ragione e nessuno lo saprà mai! Il mare ha nascosto corpi migliori del tuo e ne nasconderà di migliori ancora quando le tue ossa sul fondo si saranno tramutate in fango!» «Quanto a te!» si voltò verso la ragazza terrorizzata che balbettava chiedendo pietà. «Tu vivrai con me in casa mia per un certo tempo! Poi quando mi sarò stancato di te!» «Aha ha ha ha! Sarà meglio che tu ti sia stancato di lei quando sarò di ritorno fra due mesi!» Lo interruppe il capitano dei pirati con una sorta di allegria furfantesca. «Se in questo viaggio dovrò portare per mare un cadavere e lo sa il demonio che è un carico maligno, la prossima volta voglio un passeggero più piacevole!» Sir George fece un sorrisino acido. «Così sia! Fra due mesi sarà vostra, a meno che non le capiti di morire prima di quel giorno! Farete vela prima dell'alba con ciò che resterà di Hollinster quando avrò finito con lui! Sarà avvolto in un telo e voi manderete a fondo i suoi resti talmente a largo che il mare non li riporterà mai a arriva!» «Siamo d'accordo allora! Fra due mesi potete tornare per prendervi la ragazza!» Mentre ascoltava quel progetto scellerato il cuore di Jack si faceva piccolo piccolo. «Ari, ragazza mia, come sei arrivata quaggiù?» disse debolmente. «Un tale mi ha portato una lettera!» sussurrò lei, timorosa di parlare più forte. «La calligrafia assomigliava tanto alla tua e c'era la tua firma! Diceva che eri ferito che dovevo raggiungerti alle rocce! Io ci andai e questi uomini mi presero e mi portarono qui percorrendo una lunga galleria!» «Proprio come ti ho detto, padrone!» gridò l'irsuto Sam, gongolante di felicità. «Il vecchio Sam li ha ingannati! Il ragazzo mi è venuto dietro come un agnellino! Ah, proprio un bel trucco! E anche un bel allocco!» «Ah, basta così!» disse un pirata scuro, magro e saturnino, che evidentemente doveva essere il nostro uomo. «E' già abbastanza pericoloso fare questa strada per liberarci del bottino che abbiamo preso! E se trovano qui la ragazza e lei racconta dove sta? Dove troveremmo poi un marcato da questa parte della manica per un bottino del mare del nord!» Sir George e il capitano risero. «Stai tranquillo, Allardin! Sei sempre stato un ragazzo un po' malinconico! Crederanno che i due ragazzi siano fuggiti insieme! Il padre di lei, si sa, non ama Hollinster! O così almeno dice George! Degli abitanti del paese nessuno li vedrà più o ne sentirà più parlare e non verranno mai a cercarli qua giù!» «Tu sei triste perché siamo così lontani dal mar delle Antille! Ma abbi fede, fratello! Non abbiamo forse già battuto la manica assalendo mercanti nel Baltico sotto il naso dei soldati!» «Oh, Darcy!» mugugnò Allardin. «Ma io mi sento più al sicuro quando sono lontano da queste acque! I giorni della fratellanza stanno finendo da queste parti! Per noi è meglio stare nei Caraibi!» «Te lo dico io, ho un cattivo presentimento nelle ossa! La morte aleggia su di noi come una nuvola nera e io non vedo canali per andarcene!» I pirati fremettero un po' a disagio. «Indietro, fratello! Questi sono discorsi brutti!» «Anche il fondo del mare è un brutto giaciglio!» rispose cupo l'altro. «Sta allegro!» risa il capitano dando una sonora manata sulla spalla del nostro uomo. «Bevi un sorso di rum alla salute della sposa!» «Il molo dei condannati è un brutto posto, ma noi ne siamo ancora ben lontani!» «Bevi alla sposa!» «La sposa di George!» «E mia!» «Anche se quella sguardrinella non mi sembra troppo contenta!» «Un momento!» Il nostro uomo levò il capo all'improvviso. «Non avete sentito un grido soffocato?» Tutti tacquero e tutti gli occhi si girarono verso la scala mentre molte mani cercavano le lame. Il capitano strinse le spalle robuste con gesto impaziente. «Io non ho sentito nulla!» «Io sì! Un urlo e un corpo che cadeva!» «Ti dico che stanotte la morte si è messa in cammino!» «Allardin!» disse il capitano con voce fredda mentre spezzava il collo di una bottiglia. «Di recente sei diventato una vecchia comare che ha paura delle ombre e fatti coraggio! Forse che io mi do mai pensiero o mai paura io!» «Sarebbe meglio se tu fossi più prudente! Sempre rischi, giorno dopo giorno! E poi con quel lupo umano che ti insegue giorno e notte! Hai dimenticato l'avvertimento di quasi due anni fa!» «Va!» Il capitano rise portandosi alle labbra la bottiglia. «Sono troppo lontano persino per…» In quel momento fu colpito da un'ombra scura e la bottiglia gli scivolò dalle mani infrangendosi mille pezzi sul pavimento. Come colpito da una premonizione, il pirata impallidì e si girò lentamente. Tutti guardarono la scalinata di pietra che dava accesso alla cantina. Nessuno aveva udito aprirsi o chiudersi la porta. Ma sulle scale ora c'era un uomo alto, vestito tutto di nero salvo una fusciacca verde in vita. Sotto due sopracciglia scure, all'ombra di un cappello floscio calcato, c'erano due occhi grigi che splendevano come ghiaccio incandescente. In entrambe le mani teneva una pistola spianata. «Era solo Moncane». 4. La fiamma si spegne «Non muoverti, Jonas Ardraker», disse Kane con voce piatta. «Non fiatare, Ben Allardin, George Benway, John Harker, Black Mike, Bristol Tom. Tenete tutti le mani bene in vista! Che nessuno tocchi la spada o la pistola o rischia di morire subito!» Nella cantina c'erano quasi venti uomini, ma quelle canne affumicate potevano ucciderne con sicurezza due e nessuno voleva essere il primo a morire. Così nessuno si mosse. Solo il nostromo Allardin, pallido come un lenzuolo coperto di neve, annaspò. «Kane, lo sapevo! Quando lui si avvicina, la morte è nell'aria! Ve l'avevo detto! Quando ti mandò ad avvertire due anni fa, Jonas, tu ridesti! Ti dissi che arrivava come un'ombra e uccideva come un fantasma! La furbizia dei pelle rossa del nuovo mondo non è nulla in confronto alla sua! Ah, Jonas, avresti dovuto darmi ascolto!» Gli occhi cupi di Kane gli gelarono la lingua. «Vedo che ti ricordi ancora di me, Ben Allardin. Tu mi conoscevi prima che la fratellanza dei bucanieri diventasse una masnada di pirati tagliagole ed io ebbi dei rapporti col tuo vecchio capitano, come ricordiamo entrambi, alla tortuga e al capo. Era un uomo malvagio e di sicuro il fuoco dell'inferno lo ha divorato dopo che io gli ho indirizzato una palla di moschetto. Quanto alla mia furbizia, è vero che sono stato ad Arian e ho imparato qualcosa sull'astuzia, sulla lavorazione del legno e sulla strategia. Ma i vostri pirati sono proprio delle bestie ed è facile ingannarli. Quelli che erano di sentinella fuori della casa non mi hanno visto a causa della fitta nebbia e il bravo guerriero che stava sulla porta della cantina con spada e moschetto non si era nemmeno accorto che ero penetrato in casa. È morto subito e ha urlato solo una volta, quando io l'ho infilzato come un maiale. Hardracker imprecò furiosamente. Cosa ci fai qui? Solomon Kane gli indirizzò uno sguardo che conteneva un messaggio di morte, tale da gelare il sangue. Alcuni uomini della tua ciurma mi conoscono da molto tempo, Jonas Hardracker, detto il falco pescatore. La voce di Kane era priva d'espressione, ma dietro di essa si avvertiva un'animosità profonda. E sai bene che ti ho seguito dal Mar delle Antille al Portogallo e dal Portogallo all'Inghilterra. Due anni fa affondasti una nave nei Caraibi, la Flying Heart di Dover. A bordo c'era una fanciulla, la figlia di... beh, non importa il nome, ma ti ricordi di quella ragazza? Il vecchio suo padre era un mio caro amico e spesso avevo tenuto sua figlia sulle ginocchia quando era ancora una bambina. Quella bambina che crebbe per essere straziata dalle tue mani, cane insanguinario. Quando la nave fu catturata, quella fanciulla cadde nelle tue mani e morì poco dopo. La morte fu più gentile con lei di quanto non lo fossi stato tu. Suo padre venne a sapere della fine di sua figlia attraverso i racconti di alcuni scampati al massacro e il vecchio divenne pazzo e tale fino ad oggi. La ragazza non aveva fratelli, nessuno all'infuori di quel vecchio e nessuno l'avrebbe mai vendicata. «Tranne te, Sir Galahad!» lo schernì il falco pescatore. «Sì, io, maledetto maiale sanguinario!» ruggì cane all'improvviso. La sua voce potente quasi squasciò i timpani di quei bucanieri incalliti che sobbalzarono e impallidirono. «Non c'è nulla di più sbalorditivo e terribile di un uomo dai nervi di ghiaccio e di ferro che improvvisamente perde il controllo e prende fuoco, lasciandosi andare a un eccesso di rabbia omicida!» Per un attimo, mentre le sue parole tuonavano nella cantina, Cain divenne l'immagine stessa della passione primeva. Poi la tempesta passò e un attimo dopo era tornato in sé, freddo come l'acciaio, mortale come un cobra. Una delle pistole brunite era puntata contro il petto di Ardraker, l'altra minacciava il resto della ciurma. «Raccomandati a Dio, pirata! Tra un istante sarà troppo tardi!» disse Cain senza espressione. Per la prima volta il pirata impallidì. «Gran Dio! Non vorrai mica spararmi come fossi uno sciacallo senza darmi nemmeno una possibilità!» «Lo farò, Jonas Sardraker, e col cuore pieno di gioia! Non hai forse commesso tutti i crimini che esistono al mondo? Non sei forse un fetore per le narici del signore e una macchia nera sui libri dell'uomo? Hai forse mai risparmiato i deboli o hai avuto pietà degli indifesi! E adesso osi lamentarti della tua sorte, codardo che non sei altro!» Facendo uno sforzo terribile, il pirata si dominò. «Io non mi lamento, ma sei tu ad essere un codardo!» La minaccia e un'ulteriore rabbia rannuvolarono per un istante gli occhi di ghiaccio. Cain sembrò a ritirarsi in se stesso, ritirarsi ancora di più dal contatto umano. Si piazzò là sulle scale come un qualcosa di inumano, come un grande condor che si prepara a colpire e a uccidere. «Tu sei un codardo!» continuò il pirata disperato rendendosi conto. Non era stupido di aver toccato l'unico punto debole della corazza di Cain, l'orgoglio. Benché non se ne vantasse mai, Cain era profondamente orgoglioso del fatto che qualsiasi cosa i suoi nemici avessero detto di lui, nessun uomo l'aveva mai chiamato codardo. «Forse mi merito di essere ucciso a sangue freddo!» continuò il falco pescatore guardandolo fisso. «Ma se tu non mi dai modo di difendermi diranno tutti che sei un vigliacco!» Cain rispose asciutto. «L'orgoglio è il premio o la colpa dell'uomo e tutti sanno se io sono o no un figliacco!» «Ma io no!» gridò Hardracker trionfante. «E se tu mi spari io entrerò nell'eternità sapendo che tu sei un furfante, che che ne dicano o ne pensino gli uomini!» Dopotutto, sebbene fosse un fanatico, Cain era pur sempre un essere umano. Cercò di convincersi che non gli importava ciò che poteva pensare quel disgraziato, ma in cuor suo era così profonda la vanità per il proprio coraggio che se quel pirata fosse morto con un sorriso di scherno sulle labbra, Cain ne avrebbe avvertito lo scorno per tutto il resto della sua vita. Assentì cupo. «Così sia! Avrai la tua occasione, sebbene il signore sappia bene che non te la meriti! Avanti, scegli un'arma!» Gli occhi del falco pescatore si fecero più sottili. L'abilità di Cain come spadaccino era proverbiale fra i diseredati e i vagabondi che giravano per il mondo. Con le pistole poi, lui, Hard Rucker, non avrebbe avuto modo di usare trucchi o di sfruttare la propria forza d'acciaio. «Coltello!» disse digrignando ferocemente i denti bianchi e robusti. Cain lo guardò pensoso per un attimo, senza abbassare di un millimetro le pistole. Poi il suo viso cupo si illuminò ad un sorriso sinistro. «Va bene, il coltello non è certo un'arma da gentiluomo, ma un coltello può provocare una morte che non è né rapida né indolore!» Poi si rivolse ai pirati. «Gettate le armi!» ordinò e obbedirono tutti in silenzio. «Ora liberate la fanciulla e il giovane!» Eseguirono anche quest'ordine e Jack si sgranchì le membra intorpidite, si toccò la ferita che aveva sulla testa, ormai coperta di sangue rappresso, e abbracciò Mary che si inghiozzava. «Lascia andare la ragazza!» sussurrò Jack, ma Solomon scosse il capo. «Oh, non riuscirebbe mai a iludere le guardie che sono là fuori!» mormorò a sua volta. Cain fece cenno a Jack di mettersi a metà strada dalle scale e di far mettere Mary dietro di sé. Consegnò quindi le pistole a Hollister e si slacciò rapidamente la cintura col fodero e la giacca. Posò entrambi sul gradino più basso. Hardracker si stava liberando di tutte le sue armi e si era denudato fino alla cintola. «Sta bene attento agli altri! Del falco pescatore mi occuperò io! Se qualcuno degli altri impugna un'arma, sparagli subito! Se cado, fuggi per le scale con la fanciulla! Ma la mia mente è illuminata dalla fiamma azzurra della vendetta e sta certo che io non cadrò!» I due uomini si avvicinarono. Cain col capo scoperto e in camicia, Hardracker col fazzoletto legato attorno alla fronte e nudo fino alla cintola. Il pirata era armato di un lungo pugnale turco che brandiva con la punta rivolta verso l'alto. Cain puntava di fronte a sé un pugnale da marinaio, ma lo teneva come si tiene una spada. Nessuno dei due, da combattenti di lunga esperienza quali erano, teneva la punta rivolta verso il basso alla maniera comune. Ciò è poco scientifico e scomodo, tranne che in alcuni casi specifici. La scena illuminata dalla lampada che pendeva dal soffitto era strana, da incubo. Sulle scale c'era un ragazzo pallido che teneva dietro di sé una ragazza spaventata. Ammassati vicino alle pareti tutta una serie di ceffi feroci e ersuti, con gli occhi pieni di passione selvaggia. Le lame azzurre e opache riflettevano la luce. Al centro della stanza, due uomini alti giravano l'uno attorno all'altro, inseguiti dalle proprie ombre che cambiavano e si muovevano quando i due avanzavano o perdevano terreno. Vieni avanti e combatti, puritano! Lo sfidò il pirata, che tuttavia indietreggiava di fronte all'avanzare cauto ma costante di Kane. Pensa alla ragazza, Broadbream! Sto pensando proprio a lei, avanzo del purgatorio! Ci sono molti fuochi miserabile, alcuni più caldi degli altri! Le lame azzurre splendevano di una luce mortale al chiarore della lampada. Ma salvo le fiamme dell'inferno, tutte le fiamme possono essere spente dal... sangue! E Kane colpì con un balzo da lupo. Ardraker parò il colpo e facendosi avanti vibrò un affondo dal basso in alto. La punta del coltello di Kane, rivolto verso il basso, sviò il colpo della lama con una mossa circolare. Ma con una giravolta e un balzo dei suoi muscoli d'acciaio, il pirata indietreggiò portandosi fuori tiro. Kane avanzava attaccando senza posa. In ogni combattimento, lui era sempre l'attaccante. Mirava al viso e al corpo con fendenti fulminei e per un po' il pirata fu troppo impegnato a parare la granuola di colpi per attaccare a sua volta. Non poteva durare. Una lotta al coltello è per necessità breve e mortale. La natura stessa dell'arma impedisce ai contendenti dei lunghi giochi di scherma. Cogliendo l'occasione giusta, Ardraker afferrò il polso della mano con cui Kane teneva il pugnale e lo serrò in una stretta d'acciaio. Cercò quindi di affondare l'arma nel ventre dell'avversario. Kane, rischiando di ricevere una terribile ferita alla mano, afferrò la mano armata dell'altro fermandola a tre centimetri dalla propria pelle. Per un attimo rimasero immobili come statue, fissandosi negli occhi, sforzandosi fino allo spasimo. Kane non amava quel tipo di combattimento. Prediligeva l'altro genere di lotta che portava più velocemente a un esito mortale. Lo stile è aperto e libero, i balzi avanti e indietro, i colpi e le parate, in cui uno contava sulla rapidità di mano, di piede ed occhio, e dava e riceveva dei colpi rapidi. Ma dato che si trattava di una prova di forza, che così fosse! Ardraker aveva già cominciato a nutrire dei dubbi. Non aveva mai incontrato un uomo che lo eguagliasse quanto a forza brutta. Ma ora si trovava di fronte quel puritano, che era inamovibile come un pezzo di ferro. Concentrò tutta la sua forza, che era immensa, nei polsi e nelle gambe poderose. Kane cambiò l'impugnatura del pugnale secondo la nuova necessità. Nel primo impatto, Ardraker era riuscito a far alzare la mano armata di Kane verso l'alto. Solomon teneva il coltello appena sopra il petto del pirata, con la punta rivolta verso il basso. E ora doveva solo spingere in giù la mano che gli bloccava il polso, fino ad affondare la lama nel petto di Ardraker. Il coltello del falco pescatore spingeva in basso, con la lama rivolta verso l'alto, cercando di allontanare il braccio e la mano inamovibili di Kane, nel tentativo di aprire la pancia del puritano. Uomo contro uomo lottarono finché i loro corpi non furono tutti gonfi e nodosi di muscoli e le loro fronti coperte di sudore. Sulle tempie di Ardraker comparvero delle veneri gonfie. Il cerchio di spettatori risuonava di respiri che si bilavano fra i denti serrati. Per un po' nessuno dei due si avvantaggiò rispetto all'altro. Poi, lentamente ma con costanza, Kane cominciò a respingere Ardraker all'indietro. Le mani avvinte dei due uomini non cambiarono posizione, ma il corpo del pirata cominciò a tremare. Le sue labbra si aprirono in un ghigno orribile senza allegria, di sforzo supremo. Il suo viso era come un teschio sorridente e gli occhi sporgevano fuori dalle orbite. La forza superiore di Kane si impose, inesorabile come la morte stessa. Il falco pescatore si piegò all'indietro, lentamente, come un albero sradicato che cade a terra piano piano. Ansando fischiava e si dilava nel tentativo di irrigidirsi come l'acciaio e di riguadagnare il terreno perduto. Ma si piegava all'indietro, centimetro per centimetro, e dopo un momento che sembrò durare delle ore, aveva la schiena attaccata al tavolo di quercia e Kane torreggiava sopra di lui come un messaggero di morte. La mano destra di Ardraker stringeva ancora il pugnale e la sinistra era ancora avvinta al polso destro di Kane. Ma ora Kane, tenendo ancora vada la punta del pugnale con la sinistra, cominciò a far forza per spingere verso il basso il suo pugnale. Le vene sulle tempie di Kane si gonfiarono per lo sforzo. Un centimetro per volta, così come aveva costretto il falco pescatore a stramazzare sul tavolo, ora calava verso il basso la mano armata. I muscoli si torcevano gonfi come corde torturate nel braccio sinistro del pirata, che si piegava lentamente. Eppure la punta dell'arma continuava a scendere inesorabile. Di tanto in tanto, il falco pescatore riusciva ad arrestare per un attimo il tragitto inarrestabile della mano, ma non riusciva mai a ricacciarla indietro nemmeno di una frazione di millimetro. Cercò disperatamente di usare la mano destra che ancora stringeva il pugnale turco, ma la mano sinistra insanguinata di Kane la teneva stretta come in una morsa d'acciaio. Ora che la punta implacabile si trovava ad appena un paio di centimetri dal petto ansante del pirata, gli occhi azzurri e mortalmente freddi di Kane divennero dello stesso colore dell'acciaio freddo e portatore di morte. Ad appena due centimetri da quel cuore maligno, la punta si fermò, arrestata dalla disperazione dell'uomo ormai finito. Cosa vedevano quegli occhi spalancati? Avevano uno sguardo lontano e vitreo, nonostante fossero fissi sulla punta del pugnale che per essi era divenuta il centro dell'universo. Ma cos'altro vedevano? Navi che affondavano in base dal mare gorgogliante e scuro? Cittadine costiere in fiamme, piene di donne urlanti, mentre nel rosso bagliore delle figure scure irrompevano bestemmiando? Fumo, fiamme e rovine illuminate dalle fiamme. Poi delle sagome appese per il collo, figurine che si agitavano mentre cadevano dalle passerelle sistemate sulle murate. Una figura bianca di fanciulla dalla cui bocca uscivano forse delle suppliche disperate? Dalle labbra bavose di Ardraker uscì un urlo terribile. La mano di Kane affondò e la punta dell'arma penetrò nel petto del suo avversario. Sulle scale, Mary Gervin si voltò per non vedere, nascondendo il viso contro il muro umido e coprendosi le orecchie per non udire le grida. Ardraker aveva lasciato cadere il pugnale. Cercava di liberarsi la mano destra per allontanare da sé quell'arma crudele, ma Kane lo teneva immobile come una morsa. Eppure il pirata agonizzante non smetteva di tenersi avvinghiato al polso di Kane. Tenendo la morte a bada fino alla fine si afferrò a Kane e se Kane aveva fatto penetrare l'arma nel suo petto, lui se la fece entrare nel cuore centimetro per centimetro. La scena fece sudare freddo tutti gli astanti, ma gli occhi di Kane non cambiarono minimamente espressione. Anche lui stava pensando a una nave coperta di sangue e a una ragazza indifesa che chiedeva in vano pietà. Le lurla di Ardraker si fegero insopportabili, poi si ridussero a gridolini sommessi e terrificanti. Non erano le grida di un vigliacco pauroso del buio, ma l'ululato inconscio di un uomo agonizzante. L'elsa del pugnale quasi gli toccava il petto, quando le urla smisero e divennero un gorgoglio strozzato. E poi vi fu silenzio. Dalle labbra cianotiche del pirata sprizzò sangue e il polso stretto alla mano sinistra di Kane si rilassò. Fu solo allora che le dita della mano sinistra del pirata mollarono la presa della mano armata di Kane, sciolte dalla morte che avevano combattuto con tanto accanimento. Il silenzio avvolgeva tutto come un bianco sudario. Kane estrasse la sua arma e un rivolo di sangue uscì lentamente dalla ferita per poi fermarsi. Il puritano agitò meccanicamente la lama in aria per pulirla dalle gocce rosse che ne macchiavano l'acciaio. Mentre quella lama splendeva alla luce della lampada, a Jack Hollister sembrò che lampeggiasse come una fiamma azzurra, una fiamma che era stata spenta nel sangue. Kane mise mano alla spada. In quel momento Hollister, risvegliandosi da una specie di stupore, vide Sam alzare di nascosto una pistola e puntarla contro il puritano. Vederlo e agire furono una cosa sola. Mentre Jack faceva fuoco, Sam urlò raddrizzandosi e la sua arma esplose. Sam si trovava proprio sotto la lanterna. Mentre agitava le braccia nell'agonia della morte, un frammento della pistola colpì la lanterna e la distrusse, facendo piombare la cantina nell'oscurità. Il buio si riempì di suoni stridenti ed imprecazioni. Furono rovesciati dei bicchieri, mentre gli uomini inciampavano bestemmiando sonoramente. Le lame sbattevano le une contro le altre e si udivano gli spari delle pistole trovata a tastoni dai pirati, che poi facevano fuoco a casaccio. Qualcuno bestemmiò urlando perché una delle pallottole vaganti aveva trovato un bersaglio. Jack afferrò la ragazza per un braccio e un po' la condusse, un po' la trascinò su per le scale buie. Scivolò e inciampò più volte, ma infine guadagnò la cima delle scale e spalancò la pesante porta. La luce fiocca che entrò mostrò che erano seguiti da presso da un uomo, mentre altri erano più in basso, una massa di figure urlanti che si accalcavano in fondo alla gradinata. Hollinster si girò puntando la pistola ancora carica che aveva in mano e udì la voce di Kane. «Sono io, Kane, giovane messere! Esci in fretta con la tua dama!» Hollinster obbedì e Kane lo seguì con un balzo, poi richiuse dietro di sé la porta di quercia proprio in faccia alla masnada urlante che stava salendo dal basso. Chiuse il robusto chiavistello, quindi fece un passo indietro. Da dentro provenivano delle urla soffocate, degli spari. Qualcuno batteva sulla porta e a tratti il legno si deformava là dove si piantavano le pallottole. Ma nessuna delle palle di piombo riuscì a trapassare del tutto i pannelli di legno spesso e duro. «E adesso?» chiese Jack rivolgendosi all'alto puritano. Per la prima volta notò che aveva davanti ai piedi una figura bizzarra. Un pirata morto con gli orecchini, una fusciacca colorata e al fianco un moschetto e una spada. Senza dubbio era la sentinella e il cui turno di guardia era stato interrotto dalla spada silenziosa di Kane. Il puritano scansò il cadavere col piede senza farci troppo caso e fece cenno ai due innamorati di seguirlo. Li condusse per una corta scalinata di legno, poi attraversarono un atrio poco illuminato e infine giunsero in una stanza illuminata da una grossa candela posta su un tavolo. E lì si fermarono. «Aspettatemi qui per un momento. La maggior parte di quei delinquenti è chiusa giù in cantina ma ci sono delle guardie di fuori, almeno cinque o sei. Le ho viste quando sono arrivato. Ma ora c'è la luna alta e dobbiamo usare prudenza. Vedrò se riesco a scoprirne qualcuna guardando dalle finestre esterne». Quando furono soli nella stanza, Jack guardò Mary con amore e pietà. Quella notte sarebbe parsa terribile a qualsiasi ragazza e Mary, povera figliola, non era abituata alla violenza e ai maltrattamenti. Aveva il viso così pallido che Jack si chiese se su quelle gote, un tempo rose sarebbe mai ritornato il colore. Aveva gli occhi grandi e spiritati che pure si riempivano di fiducia quando guardava il suo innamorato. Lui la strinse dolcemente fra le braccia. «Mary, tesoro!» cominciò a dire. Ma quando la ragazza guardò oltre la spalla di lui, lanciò un urlo con gli occhi pieni di rinnovato terrore. Siudi quindi il rumore di un chiavistello arrugginito. Hollinster si voltò di scatto. Un varco nero si apriva nel muro là dove un attimo prima c'era solo uno dei pannelli della parete. Vi si stagliava la figura di Sir George Benway, con gli occhi fiammeggianti, le vesti scomposte e le pistole puntate. Jack gettò da parte Mary e alzò. Si udirono due spari contemporaneamente. Hollinster sentì la pallottola che gli apriva la pelle del viso come una lama rovente. Un pezzo della camicia di Sir George gli volò via dal petto. Cadde con una bestemmia strozzata sulle labbra. Ma quando Jack si girò di nuovo verso la ragazza terrorizzata, Benway si rialzò. Annaspava, bevendo l'aria come se qualcosa gli avesse rubato il fiato, ma non sembrava ferito, né aveva addosso macchie di sangue, per quanto si riuscisse a vedere. Jack ne fu esterrefatto, poiché sapeva bene che la palla lo aveva preso in pieno. Restò allora immobile con la pistola in mano, ancora fumante, finché Sir George non lo raggiunse e lo atterrò con un pugno. Hollinster si rialzò furibondo, ma in quell'istante Benway, afferrata alla fanciulla, la portò con sé, riattraversando d'un balzo il varco nella parete e richiudendo il passaggio segreto. Quando Kane, tornato più in fretta che poté, fu di nuovo nella stanza, vide Hollinster disperato, che tempestava di pugni la parete fino ad averne le mani piegate. Hollinster spiegò la situazione a Kane, sia pure infarcendo il racconto con bestemmi e rimproveri brucianti contro sé stesso. «È sotto la protezione di Satana!» vaneggiava disperato il ragazzo. «Io ho sparato in pieno petto, ma non l'ho ferito!» «Ah, sono uno sciocco e un imbecille! Me ne sono stato là a fermo come una statua, invece di colpirlo col calcio dell'arma! Sono stato lì a guardare come un idiota, mentre lui...» «Io sono stato uno sciocco! Dovevo immaginarlo che questa casa poteva avere dei passaggi segreti!» «Sicuramente quel passaggio segreto conduce alla cantina!» «Ma aspetta...» Hollinster stava per lanciarsi contro la parete con la corta sciavola del marinaio morto che Kane aveva portato fin là. «Anche se riusciamo ad aprire la porta segreta e tornassimo in cantina per quella via, oppure per la porta che ci siamo richiusi alle spalle sulle scale, ci ucciderebbero come conigli e non servirebbe a nulla!» «Ora cerca di calmarti e ascoltami!» «Hai visto quel corridoio buio che conduceva fuori della cantina?» «Bene, io credo che possa essere un passaggio che conduce fino alla scogliera sul mare!» «È molto tempo che Benway frequenta contrabbandieri e pirati, eppure le spie non hanno mai visto né entrare né uscire dalla casa dei carichi di merci!» «Ne consegue che deve esistere una galleria che collega la cantina al mare!» «Ne consegue anche quindi che questi delinquenti e Sir George, che dopo stanotte non potrà mai più rimettere piede in Inghilterra, percorreranno quella galleria e si imbarcheranno su una nave!» «Ma noi attraverseremo la spiaggia e saremo là ad attenderli!» «Allora, in nome di Dio, affrettiamoci!» pregò il giovane, tergendosi il sudore dalla fronte. «Una volta che saranno saliti a bordo di quella maledetta nave, non avremo più alcuna speranza di liberare la ragazza!» «La tua ferita ripresa sanguinare!» mormorò Cain, guardandolo con aria preoccupata. «Non ha importanza! Facciamo in fretta! Nel nome del Signore!» 5. Vado verso il Sol Levante Hollinster seguì Cain, che si avvicinò con baldanza alla porta principale. L'aprì e si slanciò all'esterno. La nebbia si era diradata e la luna splendeva chiara, illuminando i neri scogli della spiaggia un centinaio di metri dal punto in cui si trovavano i due. Oltre gli scogli si vedeva la lunga nave malefica, alla fonda appena oltre la linea su cui si frangevano le onde. Non c'era traccia di guardie fuori della casa. Forse si erano spaventati udendo i rumori che provenivano dall'interno ed erano fuggite. O forse in qualche modo avevano ricevuto degli ordini, o magari era stato convenuto sin dall'inizio che facessero ritorno alla spiaggia entro una certa ora. Jack e Cain non lo seppero mai, ma non videro nessuno. Gli scogli si ergevano scuri e sinistri lungo la spiaggia, come case frastagliate e nere, e nascondevano qualsiasi cosa stesse succedendo sulla riva del mare. I due compagni cominciarono a correre, senza curarsi del pericolo, per attraversare lo spazio che li separava dalle rocce. Cain non portava alcun segno della terribile lotta fra la vita e la morte alla quale aveva preso parte poco prima. Sembrava fatto di molle d'acciaio e una corsa di cento metri in più o in meno non faceva alcuna differenza né per i suoi nervi né per il suo fiato. Ma Hollister barcollava, anche se non smetteva di correre. L'ansia, l'eccitazione, la perdita del sangue dalla ferita lo avevano indebolito. Solo l'amore per Mary e la sua determinazione lo tenevano in piedi. Mentre si avvicinavano alle rocce, udirono delle voci scellerate e si fecero più cauti nei movimenti. Hollister era quasi fuori di sé e voleva balzare oltre le rocce e assalire chiunque si trovasse dall'altra parte. Ma Cain glielo impedì. Avanzarono insieme strisciando, poi sdraiati sul limitare della scogliera e guardarono verso il basso. Alla luce della luna videro i bucanieri che si erano imbarcati e si preparavano a levare l'ancora. Sotto di loro c'era un gruppetto di uomini. Una scialuppa stava già portando un carico di uomini alla nave, mentre un'altra scialuppa piena di pirati impazienti aspettava che due dei capi finissero di discutere. Evidentemente non avevano perso tempo e avevano subito preso la galleria che portava in riva al mare. Se Sir George non si fosse fermato per rapire la ragazza, azione nella quale aveva avuto fortuna, tutti i delinquenti sarebbero già stati imbarcati. I due compagni videro la piccola grotta che era all'imboccatura della galleria, la cui entrata era stata aperta spostando un grosso masso. Sir George e Ben Allardin stavano uno di fronte all'altro e discutevano animatamente. Ai loro piedi c'era Mary legata mani e piedi. Quando la vide, Hollister fece per alzarsi, ma la stretta ferrea di Kane lo tenne fermo. «Porto la ragazza a bordo!» gridava Benway con voce errata. «E io dico di no!» si udì rispondere la voce rauca di Allardin. «Non ne può venire alcun bene! Ascoltami! Hardracker giace in una pozza di sangue in quella cantina a causa di una donna! Le donne causano lotte e divisioni fra gli uomini! Porta a bordo quella ragazza e prima del tramonto avremo una dozzina di gole tagliate! Io dico di tagliarle la gola qui adesso e...» Alzò una mano verso la ragazza. Sir George gliela colpì respingendola e sguainò la spada, ma Jack non lo vide. Scartando la mano di Kane, Hollister balzò in piedi e si gettò senza pensarci due volte dalla cima della roccia. Vedendolo, i pirati nella scialuppa gettarono un grido, pensando evidentemente di essere attaccati in forze. Misero mani ai remi e lasciarono il nostro uomo e il loro protettore a cavarsela da soli. Hollister atterrò in piedi sulla sabbia soffice, cadde in ginocchio ma poi si rialzò con un balzo e caricò i due uomini che rimasero a guardarlo interdetti. Allardin cadde col cranio spaccato prima di aver avuto il tempo di metter mano alla spada. Poi Sir George parò il secondo fendente di Jack. Una sciabola corta è un'arma goffa e non è adatta alla scherma o ai giochi di lama svelti. Jack aveva dimostrato la propria superiorità rispetto a Benway con la spada dritta e leggera, ma non era abituato all'arma pesante e ricurva e inoltre era stanco e indebolito. Benway invece sembrava fresco. Tuttavia per qualche secondo Jack tenne il nobiluomo sulla difensiva solo con la furia scatenata del proprio attacco. Poi nonostante la sua determinazione e il suo odio cominciò a indebolirsi. Benway aveva un sorriso freddo sul viso, lo toccò più volte sulla guancia, sul petto e anche sulle gambe. Non erano ferite profonde ma graffi dolorosi che sanguinavano e rendevano l'avversario ancora più debole. Sir George fece una finta veloce e poi lanciò l'attacco finale. Scivolò sulla sabbia infida e perse l'equilibrio, fendendo l'aria selvaggiamente e scoprendosi. Jack intravide tutto ciò con gli occhi annebbiati dal sangue, ma raccolse tutte le forze residue e fece un ultimo sforzo disperato. Si lanciò in avanti e colpì al fianco. La sua lama affilata raggiunse il corpo di Sir George a metà fra l'anca e l'ascella. Un colpo simile avrebbe dovuto spaccare la gabbia toracica e penetrare nel polmone. Invece la lama andò in mille pezzi come se fosse fatta di vetro. Jack rimase sterrefatto e barcollò. Indietreggiando lasciò cadere l'elsa ormai inutile dalla mano indebolita. Sir George si riprese e si catapultò in avanti, lanciando un selvaggio grido di trionfo. Ma mentre la sua lama fendeva l'aria in direzione del petto indifeso di Jack, si interpose una grande ombra. La spada di Benway fu sviata con facilità incredibile. Mentre strisciava via come un serpente con le vertebre spezzate, Hollister vide Solomon Kane sovrastare Sir George Benway come una nuvola nera. La lunga spada del puritano, inesorabile come la morte, costrinse il nobiluomo a cedere terreno difendendosi disperatamente. Alla luce della luna che copriva le lame delle lunghe spade di una brina argentea, Hollister guardava il duello e contemporaneamente, piegato sulla ragazza, cercava di allentare le corde che la tenevano avvinta. Aveva udito parlare dell'incredibile abilità di Kane come schermidore. Ora aveva l'occasione di esserne testimone ed amante della spada qual era da quando era nato, si sorpresa a sperare che Kane avesse un avversario ben più degno. Infatti, sebbene Sir George fosse uno spadaccino di grande esperienza e si fosse fatto un nome come vincitore di duelli mortali in quelle contrade, per Kane quel combattimento non era che un gioco. Il puritano, oltre ad essere avvantaggiato quanto a peso, altezza e lunghezza del braccio, era anche superiore per forza e velocità. A causa della sua altezza era più veloce di Benway e quanto ad abilità al suo confronto il nobiluomo era un novellino. Kane combatteva con economia di movimento e senza scaldarsi, il che rendeva la sua scherma meno brillante. Non faceva delle parate spettacolari, né toglieva il fiato con affondi audaci. Ma ogni mossa che faceva era quella giusta. Non era mai incerto, non si emozionava mai. Un misto di ghiaccio e acciaio. In Inghilterra e sul continente, Hollister aveva visto schermidori più appariscenti e più brillanti di Kane. Ma mentre lo guardava combattere, si rese conto che non ne aveva mai visto uno che fosse altrettanto tecnicamente perfetto, abile e anche mortale. Gli sembrava che Kane avrebbe potuto trafiggere l'avversario al primo colpo, ma che questa non fosse l'intenzione del puritano. Si teneva vicino, con la punta sempre minacciosamente vicina al viso dell'altro, e così facendo teneva il giovane nobiluomo sempre sulla difensiva. Intanto parlava in tono basso e senza emozione, senza perdere il controllo del gioco nemmeno per un secondo, come se la lingua e il braccio fossero tra di loro indipendenti. No, giovane signore, non dovete lasciare il petto scoperto. Ho visto la lama di Jack spezzarsi sul vostro fianco e non rischierò che la mia spada faccia la stessa fine, sebbene sia forte ed elastica. Bene, allora non vi vergognate, signore. Anch'io ho portato una maglia di ferro sotto la camicia. A volte, sebbene credo che non fosse forte come la vostra, e questa ha respinto una pallottola sparata da molto vicino. Comunque il signore, nella sua giustizia e pietà infinite, ha fatto l'uomo in modo che i suoi organi vitali non si possano chiudere tutti in un busto. Vorrei quasi che foste più abile con la spada, Sir George. Mi vergogno di dovervi uccidere, ma... Quando un uomo mette il piede sopra una vipera, non chiede quanto sia grossa. Kane disse queste parole con tono serio e sincero, non era sarcastico. Jack sapeva bene che Kane non si stava beffando del suo avversario. Sir George era impallidito e ora il suo colorito si faceva cinereo sotto la luce della luna. Il braccio gli doleva e si era fatto pesante come il piombo. Ma quel grande demonio nero lo incalzava più che mai, annullando i suoi sforzi disperati con una facilità che aveva del sovrumano. Improvvisamente la fronte di Kane si rannuvolò, come se avesse un compito sgradevole da svolgere e volesse farlo in fretta. «Basta!» gridò con voce profonda e vibrante, che gelò ed emozionò chi l'audì. «Questo è un brutto compito, che almeno si è eseguito in fretta!» Ciò che seguì fu troppo rapido per poter essere percepito dall'occhio. Hollister non dubitò più che la scherma di Kane potesse essere brillante quando e quanto voleva. Jack intravide in un lampo una finta alla coscia, uno svolazzo improvviso di acciaio accecante e poi Sir George Benway giacque immobile, morto, ai piedi di Solomon Kane. Dall'occhio sinistro gli scendeva un sottile rivolo di sangue. «Attraverso l'occhio e dritto al cervello!» spiegò Kane cupo, pulendo la punta della spada sulla quale splendeva una sola goccia di sangue. «Non si è accorto di nulla ed è morto senza dolore! Che Dio conceda a tutti noi delle morti facili! Ma il mio cuore è pesante perché nonostante fosse malvagio era poco più di un ragazzo e non possedeva la mia abilità nella scherma. Beh, sarà il Signore a giudicarci nel giorno del giudizio!» Mary si inghiozzava fra le braccia di Jack. Si era appena ripresa dallo svenimento. La terra era illuminata da uno strano bagliore e Hollister udì un crepitio curioso. «Guardate! La casa brucia!» Dal tetto nero di casa Benway si levavano alte fiamme. Andandosene, i pirati le avevano dato fuoco e ora le fiamme l'avvolgevano tutta e facevano impallidire la luce della luna. Il mare assunse riflessi sanguigni sotto la luce scarlatta e la nave pirata, che ormai si avviava a prendere il largo, sembrava navigare in un oceano di sangue. Le vele riflettevano quel rosso bagliore. «Naviga in un oceano di sangue!» gridò Kane. Quella scena aveva risvegliato tutta la sua superstizione e le poesie latenti. «Naviga nel sangue! E le sue vele sono del colore del sangue! La morte e la distruzione la seguono e l'inferno dopo di esse! La sua rovina è rossa! Il suo destino è nero!» Poi, cambiando improvvisamente d'umore, il fanatico si piegò su Jack e la fanciulla. «Vorrei curare e fasciare quelle tue ferite, ragazzo, ma credo che non siano gravi e poi sento il suono di molti zoccoli di cavalli che attraversano la palude. I tuoi amici saranno presto qui con te. Dalle difficoltà nascono la forza, la pace e la felicità e forse le vostre strade d'ora in poi saranno più dritte grazie a questa notte di orrori. «Ma chi sei tu?» esclamò la ragazza aggrappandosi a lui. «Io non so come ringraziarti!» «Tu mi hai già ringraziato abbastanza, piccola mia. Mi basta vederti salva dai pericoli. Che tu possa prosperare, maritarti e avere dei figli forti e delle figlie dalle guance rosee!» «Ma chi sei? Da dove vieni? cosa stai cercando? Dove andrai?» «Io... io sono un uomo senza terra!» rispose lui mentre gli occhi freddi gli si riempivano di uno sguardo sognante, quasi mistico. «Io vengo dal tramonto e vado verso il sollevante, ovunque il Signore guida i miei passi. Cosa cerco? Forse la salvezza della mia anima. sono venuto seguendo la strada della vendetta. Ma ora debbo lasciarvi. L'alba non è lontana e non voglio che mi trovi ancora qui. Forse non vi rivedrò mai più. Qui il mio compito è finito. La lunga pista di sangue è giunta alla fine. Quel sanguinario è morto, ma ci sono altri uomini sanguinari, altre strade di vendetta e di riscatto. «Io seguo la volontà del Signore. Fin quando il male prospera e i torti si moltiplicano. Fin quando gli uomini sono oggetto di persecuzione e le donne ricevono offesa. Fin quando i deboli, uomini o bestie vengono maltrattati, non c'è riposo per me sotto questi cieli. Ne pace in alcuna casa o in alcun letto!» «Addio!» «Resta!» gridò Jack balzando in piedi mentre gli occhi gli si riempivano improvvisamente di lacrime. «Oh signore, aspettate!» esclamò Mary tendendogli le braccia candide. Ma la sagoma alta era svanita nell'oscurità e i passi dell'uomo che si allontanava non fecero alcun rumore. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Solomon Kane, le lame della fratellanza. Grazie per l'ascolto! Grazie per l'ascolto! Grazie.